Due eventi che vedranno protagonisti in maniera sinergica l'Asso Coral e l'Istituto Superiore Francesco Degni. Ad aprile la giornata nazionale del Made in Italy a Copenhagen e a maggio il contest internazionale del design del gioiello a Ginevra. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione presso la sede della scuola a piazza Luigi Palomba. Ai microfoni di TV City la dirigente scolastica Benedetta Rostan, il presidente Asso Coral Vincenzo Aucella, il sindaco Luigi Mennella e la vicepresidente del consiglio regionale della campagna Loredana Raia. Siamo pronti per affrontare questa avventura, questa bella esperienza. La nostra scuola parteciperà unitamente ad Asso Coral alla giornata nazionale del Made in Italy che si terrà all'ambasciata di Copenhagen e poi in secondo momento parteciperà a un contest sul gioiello a Ginevra. Allora per noi è un momento importante di testimonianza del lavoro e della sinergia che la scuola mette in atto con il territorio e soprattutto con le realtà artigianali e imprenditoriali del territorio del greco, nonché l'occasione per portare oltre i confini della nostra città la storia e tutto ciò che riguarda il passato, il presente e il futuro che nasce in questa scuola è che poi si evolve e si trasforma all'esterno. Abbiamo insieme all'Istituto Degni e al Comunitore del Greco organizzato questi due momenti internazionali volti alla valorizzazione sia culturale ma anche commerciale del nostro distretto. L'ambasciata di Copenhagen saremo il 15 aprile dove andremo a mostrare sia un workshop con i ragazzi del Degni che si esibiranno davanti ad altre scuole danesi, quindi dei ragazzi che parlano ad altri ragazzi e il pomeriggio si sposteremo all'ambasciata e faremo anche degli incontri B2B. Invece a maggio i ragazzi del Degni sono stati scelti per un contesto internazionale sul design del gioiello e quindi stanno realizzando dei progetti che entro fine mese verranno consegnati a chi dovrà decidere e a maggio ci saranno le premiazioni, quindi due momenti internazionali che danno un risalto internazionale sia alla parte culturale che alla parte di formazione che alla parte economica. Il Comune ovviamente è presente per dare supporto chiaramente a tutte le attività che possono essere importanti e ovviamente sponsorizzando in questo momento il Corallo che è una nostra pericolativa, una pericolosità tutta di Torre del Greco e noi siamo ovviamente orgogliosi che questo avvenga perché lavorare per il Corallo significa lavorare per la città di Torre del Greco, significa offrire finalmente da Torre del Greco agli stranieri a chi vorrà venire a visitare il museo non solo di questa scuola ma anche prossimamente il Museo Virtuale del Corallo ma anche il Borgo dei Saperi significa diciamo incominciare a dare un volto nuovo ad una città che vuole sicuramente migliorarsi. Come Regione Campania abbiamo voluto conferire l'indirizzo all'Istituto Degni, al Liceo Artistico perché per noi la lavorazione del Corallo e del Cammeo rappresenta non soltanto un motivo di vanto ma un tratto distintivo della comunità di Torre del Greco e dunque della Regione Campania. Questa opportunità per i ragazzi e le ragazze del Degni di partecipare a questa Kermes internazionale a Copenaghen, mettersi in gioco con le loro capacità e con quello che è la formazione che a loro viene in qualche modo assicurata quotidianamente dai docenti e delle docenti di questo istituto, oltre all'appuntamento che ci sarà anche a Ginevra in un altro contesto internazionale, permetterà non solo di potersi sperimentare ma di poter apprezzare quelle che sono le loro capacità grazie alla formazione ricevuta e dunque sperare che in questo comparto, in questo settore, loro possano costruire il proprio futuro.